Attacca la piegata finale in vantaggio su Etanedo e Niamma del Melogu che avanza in maniera molto minacciosa e attacca il battistrato, Eterna del Zamaglia, due in lotta ai 300 finali, Eterna del Zamaglia contro Enyama del Melogu, Eterna del Zamaglia prova a resistere alla fondo di Enyama del Melogu con Eterna del Zamaglia che ora guadagna qualcosa, richiamata la frusta da Alessandro Fiori per respingere Enyama del Melogu, Eterna del Zamaglia che viene a vincere la sua prima corsa in carriera Enyama del Melogu, poi Etanedo al quarto, Eolo di Chia vittoria dunque per Eterna del Zamaglia, la fila di Urge di Gallura in sella Alessandro Fiori per il training di Francesco Brocca i colori e l'allevamento del signor Luigi Comida a battere Enyama del Melogu, Etanedo, Eolo del Ma e Demiro di Chia Antonio che non flette e resiste agli attacchi di Carmelino quando i cavalli stanno completando la piegata finale con Don Antonio che prova a fuggire via da Carmelino e Dubbio poi all'esterno anche Didi Domodossola e Caracas Guerre sono in cinque su due in una linea con Don Antonio che alza bandiera bianca su Dubbio che attacca poi Carmelino a centropisto anche Didi Domodossola Dubbio contro Carmelino e Didi Domodossola che attacca con decisione i due dalla Toscana Dubbio e Didi Domodossola poi Carmelino e Don Antonio che resiste al quarto posto i due allievi di Walter Pusceddu in trasferta da Siena fanno primo e secondo con la vittoria che è andata a Dubbio che batte il compagno di allenamento Didi Domodossola al terzo Carmelino e al quarto Don Antonio come sempre efficace Michael Arras qua in Sardegna ne aveva vinto tre la settimana scorsa colpisce subito con Dubbio questo figlio di South for Secret ha levato la scuderia Moro che ha completato la retta opposta e attacca la piegata finale in vantaggio su Marrulleri e poi all'esterno Reinalo Laesa che richiesta si porta sotto allora Baia Sunaiola per via interna così come Superdestine e Matador Gureggi ora prova ad accelerare perché su Marrulleri ha spostato dalla sua scia per attaccare il battistrada richiamata la frusta Gureggi all'esterno l'avanzata di su Marrulleri e Baia Sunaiola con Gureggi che si deve difendere su Marrulleri e Baia Sunaiola l'arrivo è serratissimo su Marrulleri che prova allora ad attaccare ma dall'esterno la puntata è quella di Baia Sunaiola che mette tutto in riga e viene a vincere su Marrulleri e Gureggi al quarto posto Matador vittoria dunque per Baia Sunaiola che a centropista ha piazzato la stoccata vincente per la femmina da Siu Nation con madre da Baratea trionfa con in sella Andrea Dejas per i training di Giulia Correggia e i ruzzi colori sono quelli del signor Marcello Fresi ad ottenere la quarta affermazione in carriera e anche di questo 2023 Baia Sunaiola la piegata è sempre in vantaggio Emilia Di Montalbo che ora deve subire l'attacco a traguardo lontano di Emozione De Florinas le due in lotta le due più attese di questa corsa sono lì a giocarsi la vittoria con Emilia Di Montalbo che è tra i cento finali è in vantaggio nei confronti di Emozione De Florinas poi Eternit Emilia Di Montalbo e duecento sta scappando lungo la corda sotto la spinta di Mario Sanna Emilia Di Montalbo che dopo il secondo posto del Gran Premio Sardo viene a trionfare meritatamente chiude la stagione vincendo Emilia Di Montalbo su Emozione De Florinas Eternit e lo di De Tiesi se la meritava forse più di tutti Emilia Di Montalbo che non era riuscita ancora a trovare il primo squillo in carriera lo trova oggi all'ultimo tuffo riesce a vincere la sua prima corsa in carriera battendo Emozione De Florinas poi Eternit e al quarto e lo di De Tiesi su Everest Sprint vittoria dunque per i colori di Lucia Pes l'allevamento della scuderia Botto il training è quello di Salvatore Muroni Junior l'interpretazione impeccabile di Mario Sanna che ritorna in Sardegna e trova subito la vittoria su Montricco all'interno ci rimane Candy House all'esterno anche Pedro Ugada poi il suo Gurumuru la piegata finale Wallop de la Guerre è in vantaggio su Adelante Magic e Pedro Ugada che con decisione si porta ai fianchi del battistrada Pedro Ugada che attacca Wallop de la Guerre poi all'esterno anche Candy House poi su Montricco all'interno ci rimane Orion Star 300 finali Wallop de la Guerre stappa la corsa e allunga nei confronti di Pedro Ugada poi all'esterno Candy House sta allungando Wallop de la Guerre nei confronti di Pedro Ugada che ci prova con coraggio ma Wallop de la Guerre allungato in maniera netta e decisiva per un cavallo davvero di un'altra dimensione Wallop de la Guerre vince il trittino del campionato su Candy House che sul palo prevale su una ottima Pedro Ugada al quarto ancora una volta su Eguro Murru eccolo qua Wallop de la Guerre il figlio di Val Geist porta a colore della scuderia San Giuliano che vince un altro criterium per il training di Leonardo Chessa in sella il solito Nino Murru che si afferma come il miglior Fantino del Galopo forza alle tribune con Care Zera attaccato da Priol dell'Alguerre scatola chiusa e due sopra avanzano il battistrada iniziale e allora Priol dell'Alguerre affronta l'ultima piegata in vantaggio su scatola chiusa che si mantiene a contatto poi prova Sonnende all'esterno anche Italian King unitamente a Maria Salvador deve recuperare tantissimo anche Terry dell'Alguerre la corsa si accende Priol dell'Alguerre prova a scappare la scatola chiusa e Sonnende poi Italian King Terry dell'Alguerre e Maria Salvador ma i 300 finali scatola chiusa attacca Priol dell'Alguerre i due ingaggiano duello con scatola chiusa all'esterno che passa in vantaggio su Priol dell'Alguerre all'interno recupera Sonnende e un duello a due con scatola chiusa fin sul palo Sonnende scatola chiusa Sonnende e poi Priol dell'Alguerre e Maria Salvador c'è l'esultanza di Gioele Gungui ma bisogna rivedere attentamente il replay stretto perché i due sono vicinissimi vediamo i tempi di galoppo scatola chiusa all'esterno all'interno Sonnende sembrerebbe scatola chiusa aver conservato almeno un muso su Sonnende che aveva recuperato tantissimo all'interno terzo posto per Priol dell'Alguerre al quarto Maria Salvador il top weight quindi bisogna vedere chi ha vinto da queste immagini sembrerebbe scatola chiusa che infatti va a pescare la regia Davide Cirocca se così fosse vince anche questa importante città di Villa Cidro lui che aveva vinto l'Omium dell'Anglo Arabo con Carmelino mentre Gioele Gungui aveva vinto con Priol dell'Alguerre il Nino Costa tanto si avvia il Tondino e saremo